Finalmente mi sono sbloccato, dopo due anni di campionato sono riuscito a segnare. Sicuramente è una grande vittoria, resteremo con i piedi per terra e ci concentreremo sulle prossime partite per restare in vetta. Stava subito a riprendere il cammino prendendo e facendo bottino pieno qui a Cupello. Avete attaccato e siete stati in palla per 90 minuti. Sì, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messa tutta e i risultati si vedono.